È stata posta la prima pietra del progetto che trasformerà il Parco Tommaso Forti all'Isola Sacra nella città dei Bambini. Circa 20.000 metri quadri di area verde che nei prossimi sei mesi diventeranno un luogo di aggregazione, crescita e divertimento per i più piccoli, da 0 a 14 anni. La zona aveva bisogno di un grande restyling, ha spiegato il sindaco di Fiumicino Montino. Abbiamo discusso molto su come farlo restare sì un parco pubblico, ma con una finalità precisa rivolta all'infanzia e ai ragazzi, con una ristrutturazione sia progettuale che operativa, finalizzata esclusivamente a loro. Il progetto, ha aggiunto l'assessore all'ambiente Cini, prevede la demolizione di tutte le strutture esistenti tranne il palco in legno che verrà sistemato. Davanti alla struttura ci sarà una platea che potrà ospitare il pubblico durante eventuali spettacoli. Al centro, a proseguito, sorgerà l'unico vero manufatto che ospiterà i servizi igienici, un bar e uno spazio ludoteca polivalente. Infine, il percorso ludico che permetterà ai ragazzi di mettere alla prova la propria fantasia e i propri limiti, si articolerà in tre grandi aree suddivise per età, ha concluso Cini.